Cosa è la coscienza collettiva? La coscienza collettiva è un termine usato in sociologia, lo studio delle società umane. Si riferisce alla conoscenza e alle convinzioni condivise da tutti i membri di un particolare gruppo, indipendentemente dal fatto che quel gruppo comprenda alcuni individui, una nazione o la popolazione planetaria nel suo insieme. La coscienza collettiva consente ai membri di un gruppo di condividere obiettivi, comportamenti e atteggiamenti comuni. Incoraggia anche le persone con opinioni diverse a conformarsi alle convinzioni del gruppo nel suo complesso. In breve, rende possibile la società umana. I primati, inclusi gli umani, sono animali sociali. Come altri animali sociali come i lupi o le formiche, preferiscono vivere in gruppo per una serie di motivi. Mentre è possibile che le persone sopravvivano in isolamento, è raro che una persona lo faccia per scelta. In realtà, tale isolamento sociale è considerato una forma estrema di punizione in molte società. Sociologi e altri scienziati hanno studiato le basi psicologiche dietro i gruppi sociali e la coscienza collettiva uno dei fattori principali alla base dell'attività del gruppo umano. Il sociologo francese Imel Durk incognò il termine coscienza collettiva nel XIX secolo. Ha illustrato ciò che lui e altri scienziati hanno scoperto sul modo in cui gli esseri umani interagiscono. Poiché le persone sono pienamente in grado di agire in modo indipendente, ci devono essere forti motivazioni per la maggior parte di loro di agire di concerto l'un l'altro la maggior parte del tempo. In tutte le società umane, la maggior parte dei membri si conformerà agli atteggiamenti di gruppo sull'aspetto, sul comportamento, sull'interazione sociale simili, anche quando esistono valide alternative. Durkheim proposi che la coscienza collettiva derivasse da una forte pressione positiva e negativa sull'individuo. Fin dalla tenera età, ogni persona impara che alcuni comportamenti hanno come risultato l'approvazione dei compagni, mentre altri comportamenti suscitano una disapprovazione sottile o forte. Una volta che questa conoscenza è stata completamente assimilata, la persona risponderà in modo simile al comportamento degli altri. In questo modo, i valori del gruppo diventano i valori dell'individuo. Ciò assicura che l'individuo si conformi a concetti sociali come leggi o codici morali, anche se la sua tendenza naturale è di fare altrimenti. Lo psicologo pioniere C.I. Lunga. Jung propose che ci fosse un inconscio collettivo oltre alla coscienza collettiva. Jung credeva che alcuni concetti umani, che chiamava archetipi, fossero ereditati piuttosto che appreso. Ciò spiegherebbe perché tutte le società umane condividono alcuni atteggiamenti, credenze e leggi, anche quelle società sviluppate isolatamente. Da un punto di vista psicologico, queste teorie non sono solo importanti per lo studio della società umana, offrono intuizioni su come un individuo può raggiungere la felicità anche se i suoi obiettivi personali sono molto diversi da quelli della società in generale. Grazie a tutti.